ciao ragazze allora oggi voglio parlarvi di un negozio di abbigliamento e non solo vende anche accessori e tantissime altre cose è un negozio che trovate su ebay e su facebook questi sono i link come vedete negozio di antonella vi lascio comunque sotto tutti i link questo anche il numero di telefono il negozio si chiama putipù accessori shows ecco vedete scarpe abbigliamento accessori e borze e niente vi spiego un pochino allora praticamente le spese di spedizione sono di 7 euro e 90 e anche prendendo più oltre più articoli e spedizione comunque rimane sempre quella la pagata una volta sola viene consegnato tutto tramite con gli e corriere gls le consegne 24 ore spescono direttamente il giorno dopo che avete effettuato il pagamento poi ci sono delle promozioni che se acquistate fate una spesa per circa 80 euro la spesa di spedizione gratis per ogni acquisto riceverete sempre un omaggio perché lei è davvero carinissima ovviamente c'è poi la possibilità di reso di cambio vi leggo un pochino come funziona prima di ogni spedizione controlla scrupolosamente ogni prodotto se ci dovrebbe essere spuggito qualcosa c'è qualche difetto lo può contattare e insieme potete risolvere il problema offrono quindi cambio rimborso ad esempio c'è scritto hai scelto la calza sbagliata nessun problema contattaci per la disponibilità faremo ritiro del numero sbagliato ti invieremo quello giusto le spese di spedizione in questo caso però sono a carico vostro solamente in caso di difetto sono a carico a carico loro la merce resa non deve essere usata e restituita nelle confezioni deve essere istituita nella confezione originale integra chiedono se è possibile di lasciare un feedback dopo dopo che avete poi effettuato l'ordine che vi siete resi conto che va tutto bene ecco allora io devo dire che mi sono molto trovata bene con lei i suoi capi di abbigliamento i suoi prodotti tutto ciò che trovate nel suo negozio sono davvero ottime sono davvero ottime vi faccio vedere un po quello che mi ha inviato io sapevo che mi avrebbe inviato solamente una borzetta invece mi ha fatto una sorpresina mi ha inviato questo paio di orecchini con il gufetto sono un colore sembra rosso ma più color rami agli occhietti di pietre nere sono a perno e hanno degli strass qui sulla pancia ve li faccio vedere meglio eccoli guardate quanto sono belli sono senza nickel questo è il retro come sono gli orecchini a perno scusate per lo smalto eccoli poi mi ha inviato questo che è praticamente un basco vedete i cappelli che si usano soprattutto a parigi usano le parigine quelli molto carini è un basco molto carino molto morbido molto bello vedete su ogni accessorio ovviamente trovate il suo logo e poi infine questa la borzetta di voi parlavo ecco la mente quanto è bello allora è morbidissima è nera è una pochette non vedete a tutte le borchie dorate qui intorno ai lati della borsa in più e anche qui sul manico in cui la porterete a questa chiusura per aprirla praticamente voi da girate in questo modo poi c'è tutta questa bellissima zip lunghissima e questo è l'interno c'è la tracolla che quindi voi potete vedete come è fatta potete aprire e inserire qui ai bordini e quindi portarla o come pochette con questo qui o direttamente con la tracolla dentro è bellissima è fatta così tutta bella fiorata una bellissima fodera e devo dire sono rimasta molto sorpresa perché è bellissimo tantissime tasche allora ne ha una qui interna grandissima lo vedete mettere il cellulare le cose che volete che sono un po più coperte poi c'è questa qui grande anche questa in più un'altra qui attaccata guardare quanto è grande ancora un'altra qui poi qui alla possibilità vedete di mettere il telefono e taschi sono le taschine aperte però io riesco sempre metterlo nella zip vedete qui potrei mettere non so accendino sigaretta se fumate guardate che bella è stupenda e viene praticamente viene mi sembra sulle 18 euro e 90 una cosa del genere comunque vi scrivo tutto qui sopra nel video vi lascio i link di ogni articolo che potete trovare sul suo negozio sotto nell'info box e anche tutti i link per poterla contattare e niente io devo dirvi che sono molto contenta di aver fatto questa collaborazione con lei perché credo sia una delle delle persone dei negozi che ho che ho visto fino adesso di abbigliamento che hanno delle cose bellissime e tutti di ottima qualità è vero alcune cosine i prezzi sono sembrano alti ma sono alti perché sono di qualità io sono di questa idea se trovate prezzi alti al giorno d'oggi solo perché sono cose di ottima qualità e poi me ne sono resa conto perché le ho ricevute e c'è questa borsa una cosa spettacolare io quando l'ho vista ho detto si inviami quella ma non mi aspettavo una cosa una cosa così e la borsa è stupenda è morbidissima è ben fatta e sembra di pelle è stupenda dentro vi ho fatto vedere che è grandissima per essere una pochette e può essere usata in tantissimi modi poi originali perché ha un'apertura strana che non trovate in giro ha le borchie come vanno come vanno adesso e pagare solamente 18 euro 18 euro 90 credo sia sia ottimo come prezzo e niente io vi saluto e vi invito andare a vedere le sue pagine e qui vi rinnovo tutti i link in cui potete rivederla come già vi ho detto vi metterò tutto sotto e niente ringrazio antonella e vi saluto e faccio un saluto anche a tutte le ragazze della sua pagina ciao